Si svolta sabato scorso presso la Cattedrale di Santa Maria Maggiore di Teggiano la cerimonia di ordinazione sacerdotale del giovane Don Pasquale Gaito. Dopo una fitta settimana di preparazione incentrata su una serie di catechesi e celebrazioni eucaristiche presedute da paroci e personalità religiose della Deolcesi di Teggiano Policastro, Don Pasquale è stato ordinato presbitero per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro. Il neosacerdote di soli 27 anni ha prestato il suo servizio pastorale dapprima nella sua parrocchia di provenienza, Santuario Cuore Immacolato di Maria, e da diacono nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo di Teggiano. L'avventura di risposta alla vocazione ricevuta, spiega Don Pasquale, è iniziata nel luglio del 2000, quando un ragazzo di Sassano veniva ordinato presbitero, cominciai da allora a svolgere le mansioni di catechista, responsabile dei ministranti e animatore liturgico, suonando l'orgono durante la celebrazione eucaristica nella mia parrocchia. All'ordinazione erano presenti numerosi fedeli dall'intero vallo di Diano. La comunità sassanese, guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino in particolar modo, si è mostrata orgogliosa e commossa nel prender parte alla cerimonia di chiamata al Ministero Sacerdotale del giovane Don Pasquale, il quale ha celebrato ieri la sua prima messa presso la parrocchia Santuario Cuore Immacolato di Maria in Varco Notarercole di Sassano.